E ora a Palermo che ha intitolato una strada a Placido Rizzotto, sindacalista simbolo della lotta alla mafia ucciso 71 anni fa, Jacopo Ceccone. Era un partigiano, era un dirigente socialista, era un dirigente giovane che lottava per l'emancipazione delle lavoratrici e dei lavoratori. 71 anni e una memoria ancora viva. La Sicilia ricorda Placido Rizzotto ucciso nel 1948 dalla mafia per il suo impegno a favore delle lotte contadine a Corleone. Nel giorno dell'anniversario Palermo gli ha dedicato una strada a una delle 19 cosiddette vie dei diritti inaugurate nel quartiere. Noi abbiamo bisogno che Palermo abbia esempi da seguire per i giovani. Il corpo di Placido Rizzotto, gettato in una foiba dai suoi assassini, fu ritrovato solo nel 2009 e identificato nel 2012, quando fu sepolto con tutti gli onori di Stato. Oggi più che mai c'è bisogno di essere uniti per combattere ciò che rappresenta un vero e proprio cappio al collo di questo paese. Noi speriamo che non ci sia bisogno di tanti eroi, che ci sia bisogno invece di tanta gente normale che combattendo riesca a raggiungere i traguardi di libertà e di giustizia sociale di cui la Sicilia ha bisogno.